Il ministero profetico apostolico della Bibbia del missionario Ewald Frank Il missionario Ewald Frank da oltre 40 anni ha predicato in più di 130 nazioni Egli è conosciuto per aver pubblicato differenti libri, trattati, programmi radio e televisivi Il suo genuino insegnamento apostolico è apprezzato dal popolo di Dio intorno al mondo Cari amici, cari fratelli e sorelle E' il fratello Frank che vi parla dal centro missionario di Krefeld, Germania E' una grazia sapere che Dio raggiunge col suo amore tutti i popoli in tutte le nazioni Di ogni colore, dovunque possiate essere Il Signore ha aperto la via affinché potessimo condividere la Sua preziosa parola con voi Voi potreste non stimare la qualità del ministero Tuttavia noi lo chiamiamo ministero profetico apostolico Ma nel momento in cui lo Spirito Santo vi rivelerà l'importanza dell'originale parola di Dio Allora voi comprenderete perché noi mettiamo un simile accento solamente sulla parola di Dio E rigettiamo ogni interpretazione della Sacra Scrittura Dio vigila sulla Sua parola per adempierla Ed egli è l'interprete di se stesso Adempiendo ciò che ha promesso nella Sua santa parola Nella lettera agli Efesini, capitolo 1, dal versetto 3 al versetto 5 leggiamo Benedetto sia Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo Che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti e in Cristo Cari, il Signore mi ha dato un ministero di insegnamento Per molti anni sono stato più in azione nel ministero evangelistico Quando guardo a più di 40 anni nel ministero internazionale Viaggiando da un continente all'altro, di città in città e da una nazione all'altra Ma negli ultimi anni sono stato condotto a parlare del ritorno di Cristo In merito all'adempimento delle profezie della Bibbia Mostrando che Dio ha un piano di salvezza E come alla prima venuta di Cristo ci fu un tempo di preparazione Una via fu preparata per il Signore Affinché tutta la terra potesse vedere la salvezza del nostro Dio E Cristo il Salvatore fu presentato Allo stesso modo e adesso Voi potreste non aver udito al riguardo Ma c'è una promessa In effetti ci sono un certo numero di promesse Che devono adempiersi nella chiesa del Dio vivente Prima che Cristo ritorni Noi possiamo guardare a Israele In cui le promesse vengono adempiute Come troviamo scritto in Issei capitolo 14 Versetto 1 Che Dio li avrebbe fatti ritornare dalle differenti nazioni E li avrebbe piantati di nuovo nel loro proprio territorio Possiamo leggere in Geremia capitolo 31 Dal versetto 1 al versetto 10 In cui si parla di coloro che sarebbero scampati alla spada Alla persecuzione E sarebbero stati radunati di nuovo nella loro patria Anche nel profeta Ezechiele Sta scritto nel capitolo 36 Versetto 24 Io vi radunerò da tutte le nazioni Dove vi ho disperso Ed ora Loro sono ritornati Da 143 nazioni Come diretto adempimento Delle profezie della Bibbia E poi Nel profeta Osea Capitolo 6 Abbiamo la promessa Dopo due giorni Egli ci vivificherà Il terzo giorno Vivremo alla sua presenza Dopo duemila anni Dio li ha ricondotti Nella loro terra natia Un giorno con il Signore È come mille anni E mille anni sono come un giorno È una scrittura profetica E noi dobbiamo comprendere sempre La scrittura tramite rivelazione divina Tuttavia Tuttavia Quando veniamo alla chiesa Del Dio vivente È così importante sapere Che Dio Ha promesso Di mandare il profeta Elia Prima che venga Il grande e terribile giorno Del Signore In primo luogo Noi vediamo Giovanni Che venne duemila anni fa Proprio prima Che iniziasse Il giorno della salvezza Ed ora Abbiamo la promessa Che prima che venga Il giorno del giudizio Quando il sole Si oscurerà E la luna Sarà mutata In sangue Prima che venga Il grande e terribile Giorno del Signore Alla fine Del tempo Della grazia Dio avrebbe Mandato di nuovo Un profeta Per riportarci a sé Alla sua parola Per riportarci di nuovo Nella via Del Signore Qui sta scritto Più avanti In Efesini Capitolo 1 Nel versetto 5 Avendoci predestinati Ad essere adottati Per mezzo di Gesù Cristo Come suoi figlioli Secondo il beneplacito Della sua volontà E poi Nel versetto 9 Col farci Conoscere Il mistero Della sua volontà Giusta Il disegno Benevolo Che egli aveva già Prima In se stesso Formato Cari C'è un grande Piano di salvezza E se andiamo Nell'Antico E nel Nuovo Testamento Noi comprendiamo Tramite Rivelazione Divina Che adesso Viviamo Alla fine Del tempo Della fine Come già Menzionato I passi Della scrittura Dell'Antico Testamento In riferimento Agli ebrei Che sarebbero Ritornati Nella loro Terra natia Il nostro Signore ha detto Pure in Matteo Capitolo 24 Versetto 32 Parlando Del simbolo Del fico Quando Avremo visto Il fico Ritornare Di nuovo In vita Allora Quella Generazione Non sarebbe Passata Prima che Tutte queste cose Si fossero Adempiute Cioè Le terre Passeranno Disse il nostro Signore Ma le mie Parole Non passeranno E lì In Matteo Capitolo 24 Versetto 33 Il nostro Signore Ha detto Quando Vedrete Adempiersi Tutte queste cose Allora sapete Che è vicino Proprio Alle porte E in Luca Capitolo 21 Versetto 24 Il nostro Signore Parla Degli ebrei Che sarebbero Stati dispersi Fra tutte le nazioni Ed uccisi Tramite la spada Ed anche che Gerusalemme Sarebbe stata Calpestata Dai gentili Finché il tempo Dei gentili Fosse terminato E noi tutti Sappiamo Che fin dal 1967 Gerusalemme È unita Ma la contesa È tuttora Il monte Del tempio Perché gli ebrei Sanno che Il tempio Deve essere Riedificato Secondo le profezie Della Bibbia Dell'Antico E del Nuovo Testamento Tuttavia Andiamo un po' Più avanti Alla situazione Della Chiesa Del Nuovo Testamento Prima che Cristo Ritorni Ci deve essere Una totale Restaurazione Non una riforma Noi abbiamo Avuto la riforma Sin dalla svolta Che vi fu 500 anni fa Quando iniziò Realmente la riforma Molte cose Furono Riformate Ma ora Non è il tempo Della riforma È il tempo Della restaurazione Di tutte le cose Come il nostro Signore Ha confermato La promessa Dell'Antico Testamento In Matteo Capitolo 17 Versetto 11 Magari Dovrei leggerlo Ed egli Rispondendo Disse loro Certo Elia Deve venire E ristabilire Ogni cosa Cari Questa Non è la mia Promessa Non è la mia Parola Questo Non lo dico Io Nessun uomo Lo dice Il nostro Signore L'ha detto Ed egli ha confermato La promessa Dal profeta Malachia Capitolo 4 Che egli avrebbe mandato Il profeta Elia Un uomo Come Elia Per restaurarci E riportarci Al principio Agli insegnamenti Degli apostoli Cari Se Dio Non apre I vostri occhi Spirituali Voi Non vedrete mai La differenza Ma non appena E ciò Tramite Rivelazione Divina Dio Vi mostra Tutte le Deviazioni Tutte le Interpretazioni Fatte Dall'uomo Come la scrittura È stata Fraintesa E applicata In modo Errato Fino a questo Giorno Cari Ogni parola Di Dio È stata Interpretata È stata Fraintesa È stata Collocata In modo Errato Voi potete Andare in Matteo Capitolo 28 Versetto 19 Come i Padri Della Chiesa Hanno Interpretato In modo Sbagliato Quel passo Della scrittura Perché loro Non avevano La stessa Rivelazione Divina Che aveva Pietro Che aveva Paolo Essi Presero Ciò Nel modo In cui Gli uomini Avrebbero Fatto Senza La rivelazione Divina Anche in merito A Giovanni Capitolo 20 Versetto 23 A chi Rimetterete Peccati Saranno Rimessi A chi Li Riterrete Saranno Ritenuti Come la scrittura È stata Fraintesa E applicata In modo Errato A me Piace Sempre Andare In un Certo Numero Di Riferimenti Biblici Affinché Sappiate Cosa dice Realmente La scrittura In Luca Capitolo 24 Versetto 47 Il Nostro Signore Disse Che Nel Suo Nome Si Sarebbe Predicato La Rimissione Dei Peccati A tutte Le Nazioni In Ebrei Capitolo 9 Versetto 22 Leggiamo E Secondo La Legge Quasi Ogni Cosa È Purificata Col Sangue E Senza Spargimento Di Sangue Non C'è Rimissione Così Cari La Rimissione Dei Peccati E Tramite Il Prezioso Sangue Dell'agnello Non Tramite Un Prete Che Esegue Qualcosa Come Sacramenti No Noi Predichiamo Il Vangelo Di Gesù Cristo E Lui Crocifisso Quando Egli Sparse Il Suo Sangue Sulla Croce Del Golgota Ecco Dove Il Prezzo Fu Pagato Ecco Dovebbe Luogo La Redenzione Ecco Quando I Nostri Peccati Furono Perdonati Dio Era in Cristo Riconciliando Il Mondo Con Sè Ed Anche Dandoci Il Perdono Di Tutti I Nostri Peccati Permettetemi Che Vi Legga Nella Prima Epistola Di Pietro Capitolo 1 Nel Versetto 10 La Scrittura Dice In Merito Ai Profeti Questa Salvezza È Stata L'oggetto Delle Ricerche E Delle Investigazioni Dei Profeti Che Profetizzarono Della Grazia A Voi Destinata Investigavano Loro Investigavano Investigavano Perché Il Tempo Dell'adempimento Non Era Ancora Venuto E Poi Sta Scritto Qui Più Avanti Nella Prima Epistola Di Pietro Capitolo 1 Versetto 18 Sapendo Che Non Con Cose Corruttibili Con Argento O Con Oro Siete Stati Riscattati Dal Vano Modo Di Vivere Tramandatovi Dai Padri Ma Col Prezioso Sangue Di Cristo Come D'Agnello Senza Difetto Ne Macchia E Poi Sta Scritto Nel Versetto 20 Ben Preordinato Prima Della Fondazione Del Mondo Ma Manifestato Negli Ultimi Tempi Per Voi Tutte Le cose Sono State Preordinate Il Figlio Di Dio Che Doveva Morire Per Noi E Tutti I figli E Figli Di Dio Sono Stati Pure Predestinati Prima Della Fondazione Del Mondo Dio Non Decide Le cose Quando Inizia Il Tempo Egli Ha Deciso Le cose Nell'eternità E Adempie Il Consiglio Della Sua Propria Volontà Durante Il Tempo Veniamo Al Punto Chi E L'uomo Che Pensa Di Essere Nella Posizione Di Perdonare I Peccati Solamente Dio Perdona I Peccati Nessun Uomo Può Perdonare Neanche I Propri Peccati Figuriamoci I Peccati Degli Altri Come Perdonava I Peccati Pietro Egli Predicò Il Perdono De Peccati Il Giorno Di Pentecoste Egli Predicò Cristo Egli Mostrò Che Dio Era In Cristo Perdonando I Nostri Peccati E Poi A Coloro Che Avevano Creduto A Costruirgli Poteva Agevolmente Dire Se Voi Credete In Cristo I Vostri Peccati Sono Perdonati Se Non Credete I Vostri Peccati Non Sono Perdonati Sono Ritenuti Perché Il Sangue È Stato Sparso Per Il Perdono Dei Nostri Peccati E Se Voi Non Credete Semplicemente Non Ricevete Il Perdono Voi Dovete Credere Dio Altrimenti Lo Fate Bugiardo E Private Voi Stessi Della Vita Eterna Cari È Così Importante Credere Come Dice La Scrittura Qui Nella Prima Epistola Di Pietro Capitolo 1 Nel Versetto 23 Leggiamo Poiché Siete Stati Rigenerati Non Da Seme Corruttibile Ma Incorruttibile Mediante La Parola Di Dio Vivente E Permanente Cari Fratelli E Sorelle Cari Amici In Questo Ministero Profetico Apostolico Noi Vorremmo Condividere Con Di Dio Ci sono Specialmente Tre Aspetti Di cui Dobbiamo Occuparci Innanzitutto C'è la parte Evangelistica Che mostra Gesù Cristo Come nostro Salvatore E in Secondo Luogo C'è la parte Di insegnamento Che ci mostra Gli insegnamenti Della Bibbia Gli insegnamenti Della Chiesa Del Nuovo Testamento E poi In terzo luogo La parte Profetica Che ci mostra Cosa contiene La scrittura Profetica E ciò che è Stato Predetto Accade Proprio Ora Noi abbiamo Bisogno Di mettere Tutte queste Tre cose Insieme Dobbiamo Dirvi Che Soltanto In Cristo Gesù Dio Si è Incontrato Con Possiamo Incontrarci Con Lui E questo È Alla croce Perché Soltanto Quando Cristo Morì E il suo Sangue Fu sparso Quello è Stato Il momento In cui Siamo Stati Riconciliati Con Dio Ed ora Noi riceviamo La sua parola Come semenza divina Nella nostra anima E lo Spirito Santo Viene sopra di noi Perché abbiamo Accettato Cristo Come nostro Personale Salvatore Noi riconosciamo Che il sangue Del nuovo patto È stato sparso Per la remissione Dei peccati Come ha affermato Il nostro Signore Salvatore In Matteo Capitolo 26 Del versetto 26 Fino al versetto 28 Che egli ha sparso Il suo sangue Per la remissione Dei peccati Così cari Noi dobbiamo Mettere le cose In modo corretto Dobbiamo ritornare Agli insegnamenti Originali Della parola Di Dio Dobbiamo trovare La nostra via Per tornare a Dio E alla sua parola E poi naturalmente Non solo La parte evangelistica Ma anche La parte Di insegnamento Se andate Nelle lettere Scritte Dagli apostoli Specialmente Tramite L'apostolo Paolo Egli quasi Ogni volta Si indirizzava Si indirizzava Alle chiese O ai singoli Egli scrive Nella stessa maniera Pace sia a voi Da Dio nostro padre E dal Signore Gesù Cristo Sapevate Sapevate che 36 volte La stessa Terminologia È usata Dall'apostolo Che si indirizza Alle chiese Benedetto Io non posso Io non posso darvi La rivelazione Divina Quella viene Solamente Da Dio Ma posso Dirvi Che se voi Credete Ciò che Dio Ha detto Nella sua parola Egli rivelerà Se stesso A voi Il nostro Signore Disse Il mondo Non mi vedrà più Ma voi Mi vedrete Perché Mi rivelerò A voi Ed egli Disse a Pietro Carne e sangue Non ti hanno Rivelato questo Ma il padre mio Che è nei cieli Accostando Velocemente Il tema Della Deità Il figlio Non è nato Nel cielo Dal padre Da qualche parte Nell'eternità Come dice L'insegnamento Della Chiesa Come dice Il cosiddetto Credo Apostolico Il figlio di Dio Nacque A Bethlehem Nell'Antico Testamento Egli era Io sono Il Signore Il Logos Che nel principio Venne fuori Dalla pienezza Di Dio Manifestandosi In una forma visibile Voi potete Leggerlo Ed anche Affinché Noi Fossimo Mutati E trasformati Per apparire Pure Nella stessa Immagine Proprio come Adamo Fu fatto Ad immagine Di Dio Cristo È l'immagine Di Dio Magari Vi do Il riferimento Affinché Conosciate Il piano Di salvezza Alla fine Staremo Alla presenza Di Dio Come figli E figlie Di Dio Proprio Come Cristo Il Salvatore Divenne Come noi Prese un corpo Di carne e sangue Nacque in questo mondo Soffrì E morì Per noi Al posto Nostro Affinché Noi Ricevessimo L'adozione Affinché Avessimo La possibilità Di essere Collocati Di nuovo Nella nostra Posizione Originale Come figli E figlie Di Dio Perché Non leggete Una volta In primo Corinzi Capitolo 15 Versetto 49 Perché Non leggete Due Corinzi Capitolo 3 Versetto 18 Perché Non leggete Due Corinzi Capitolo 4 Versetti 3 E 4 Perché Non leggete Romani Capitolo 8 Versetto 29 Perché Non leggete Ebrei Capitolo 1 Versetto 3 Perché Non leggete Colossesi Capitolo 3 Versetto 10 Cari Noi Dobbiamo Investigare Di nuovo Le scritture Non possiamo Andare avanti Tramite qualcosa Che viene detta Dal polpito Noi Dobbiamo Ritornare Alle cose Che vengono Dal trono Di Dio E la parola Di Dio Viene dal trono Di Dio E i santi Uomi Sotto L'ispirazione Dello spirito Santo Hanno parlato Come lo spirito Parlava loro Dunque cari Lasciate che Riassumiamo Ciò che abbiamo Cercato di dire Qui oggi Nel ministero Profetico Apostolico Il ritorno Di Cristo E' molto vicino Infatti E' imminente I segni Del tempo Parlano Chiaramente Al riguardo Amici Io sono Nel regno Di Dio Dal 1949 E predico Dal 1953 E poi Dagli inizi Degli anni Sessanta Sono nel Ministero Internazionale Ho conosciuto Personalmente L'uomo Mandato Da Dio William Branham Che Dio Ha utilizzato Dopo la seconda Guerra mondiale Per diffondere L'ultimo risveglio Di salvezza E di guarigione Io ho visto I giorni Della Bibbia Con i miei Propri occhi Ho potuto Conoscere La parola promessa Per questo giorno Perciò Devo condividere Con voi Che Dio Ha mandato Qualcuno Adesso Prima del Ritorno Di Cristo Come Egli Ti mando Qualcuno Per preparare La sua via Duemila anni fa Noi dobbiamo Conoscere La parola promessa Per oggi Dobbiamo Conoscere Il messaggio Dell'ora Dobbiamo Conoscere Il piano Di salvezza Ed essere Partecipi Di ciò Che Dio Fa Propriora Io posso Solamente Dire Che la benedizione Del Dio Onnipotente Riposi Sopra di voi Che possiate Trovare grazia Agli occhi suoi Possa la sua parola E la sua volontà Esservi rivelata In tutta la sua Pienezza Possa la gloria Di Dio E la sua Benedizione Rimanere Sopra Voi tutti Nel prezioso E santo nome Del nostro Signore Gesù Cristo Amen Grazie a tutti Grazie a tutti